E' la rivincita dei piccoli comuni, una sorta di rivalsa rispetto all'isolamento e ora che questo è diventato il sostantivo mondiale e l'esortazione planetaria per battere il coronavirus, il Molise dei tanti paesi con poche centinaia di abitanti diventa protagonista nella battaglia contro la pandemia e registra un numero di casi così basso da richiamare l'attenzione generale. Lo ha già sottolineato un paio di volte il capo della protezione civile Borrelli, lo ha fatto il Corriere della Sera che in un pezzo di Fabrizio Caccia ha assegnato il bollino virtuoso al Molise. Il presidente della regione Toma lo ha spiegato elegantemente senza attribuirsi meriti. In Molise ha raccontato al giornalista del Corriere l'isolamento di tanti paesi è un fatto naturale. A Capracotta, comune oltre mille metri di altitudine bisogna andarci se ci si vuole andare. Poi il governatore ha citato anche l'atteggiamento di grande prudenza che la regione ha da subito messo in campo con il paziente numero uno tornato dalla settimana bianca isolato e del quale sono stati ricostruiti tutti i contatti con le 470 segnalazioni delle persone tornate con la prima ondata di chi scappava dal nord e messe in isolamento e con le misure adottate per contenere il contagio come Toma ha ancora una volta ricordato anche a tele Molise. Il Molise è una piccola regione ma è una regione che ha molto 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 da dimostrare all'Italia. Ci avevamo iniziato a farci apprezzare in conferenza dei presidenti, ora lo stiamo facendo contribuendo ad alleggerire anche le posizioni di altre regioni. Nel nostro piccolo non ci dimentichiamo che abbiamo accolto due ospiti di Bergamo, non ci dimentichiamo che abbiamo dovuto fronteggiare tra sabato e domenica dell'altra settimana una situazione improvvisa di due case di riposo e abbiamo, me che non si dica, messo in tranquillità e in sicurezza quegli ospiti. Ma il Molise, la vita da isolati nelle zone interne, trascorre lenta anche senza coronavirus e il lavoro in campagna, quando non è un'attività per il sostentamento delle famiglie, diventa una passione. Molti sindaci, dove il virus è per fortuna solo un nome scientifico, hanno ipotizzato un allargamento delle maglie per consentire alle persone di andare nelle proprie campagne. Anche in questo caso Toma ha frenato e chiesto pazienza. La gente deve sapere che il presidente della regione può non alleggerire le misure governative ma restringerle, cioè io posso attuare restrizioni o posso fare chiarimenti su misure governative ma non posso alleggerirle. In campagna, molti mi chiedono di andare in campagna a fare l'orto, a curare i poderi, in campagna ci debbano andare i coltivatori diretti, coloro i quali fanno gli imprenditori a titolo prevalente, perché la legge, la norma lo consente, lo ammette, ma se noi consentissimo a tutti i molisani di poter andare a fare l'orto avremmo un via un viavai enorme e vanificheremo tutti gli sforzi fatti finora. Quindi io chiedo ai molisani un altro po' di pazienza, che ci siamo. Ancora pochi giorni dunque per confermare e rendere utile quanto finora hanno saputo fare i molisani, per dare un senso alle vittime, per fortuna poche, che comunque ci sono state in questi giorni drammatici. E per dare alla parola isolamento una volta che questo assurdo periodo sarà alle spalle il significato di un valore di una vita fatta di sacrifici a prescindere. I paesi del Molise che si guardano da lontano, domani, di quelli isolamento potranno fare, per una rivalza della storia, un'opportunità di rilancio.